in questo vediamo anche di vedere che missioni ci ho in questo momento vediamo 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 oh eroe di warcraft direi allora collezione oh c'è la nuova rissa c'è la nuova rissa oh sergente onipresente l'avevo fatto una volta carinissimo sta rissa è veramente uno spettacolo allora vediamo vediamo perfetto ah è una zibbolo lo leviamo tanto c'ho warcraft oggi quindi warcraft cosa posso prendere a maia giusto giusto partitina velocina anzi no aspetta un ventino classificate pronto e speriamo che c'è un buon gruppo un buon gruppo e allora sono due anni per entrare dentro le classificate dai due ai tre anni ci sono sempre in maniera per entrare No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie. 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 I danni ce li avremo anche. Forse. Non ne sono molto convinto. Bisogna vedere come sanno i giochi degli altri. Devo fare la skin diversa. Vabbè. La battaglia comincia fra... Dieci secondi. Sì, un fiore. Cinque. Ma cazzo l'ha visto un fiore? Due. Uno. Cominciano i botti. I bottoli. I butulinici. I'm sorry. ... I'm sorry. Suspense. Primo sangue! Quella croma c'è un'amica eccezionale! Ma prenderà qualcuno forse, forse... Ci hanno già ucciso tre volte, che culo! Quella croma c'è una mira! Ma una mira! Ma che nemmeno più... Oh... Le mie ferite queste! Quella roba davvero! Sarà fantastico! No! Ci vede! Ci vede, Marco? Non so se lo stai qui, ma ci vede! Aspetta qua! Ma dove cazzo tira?! E' una croma molto inutile! No! 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 Non abbiamo messo nemmeno uno! Bene! Bene! Sono fantastico! oh grande avete baciato Maia bene ancora nel tempo vai 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 il pavato ma c'è io voglio sapere una cosa cosa cazzo serve l'affare di cromi se poi non serve già gli attacchi base senza i cosi non puoi dove va dai che ci muore e ci muore come ci muore e ci muore molto male e va beh fa un culo grazie ai vostri nemici grazie a tutti ma io non sono un coso porca Eva grazie porca cane ne ho resistito a tre non a una tre porca troia la ruota fa un tempo a rimarsi ricordate i miei gioielli devo ucciderno brava brava è l'unica cosa bella che ha fatto sta fin oh grande è l'unica cosa bella grande è l'unica cosa bella 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 sveglia sveglia chico sveglio qua ci vuole è l'unica cosa bella è l'unica cosa bella ok i vostri nemici hanno esaudito il mio desiderio io passo di là io passo di là eh sono curatore rompete le palle nooo non mi morite a cazzo sì ma non andare ora è la belinda e can ma porca è preso parata che cazzo ha preso e fa fandomo però eh Poi piaceva con lui C'ho più mana dove cazzo vado Vado a cagare Minchia Ce l'ha messo di te Che cazzo muore No 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 Porca Eva E becca con la testa di ca Cioè io li rallento e questi la gente non li prende E mai non mi posso sdobbiare Porca Eva Io vado a sapere dove va Chrome in circa di guai proprio E' un po' 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 Grazie. 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 Merda. Cazzo. Ho curato anche quello che non c'era. Grande Marco. Segui, segui. Non sono riuscito a consegnare. Troppo. Un altro indigno. Un'altra. E'necilla. È che prego! Un'altra. Un'altra. adesso ok bravo adesso vanno è la mia ferita è la mia ferita C'è ma IA estren Non c'è certo credo sia ora di prendere un campo di mercenari non mi fate paura non mi fate paura ma ci accorgetti bizzare festeggiare e duoto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.